Signori e signori, vince l'edizione DJ Factor 2011 Sei tu Chiara? Allora, sarà una cosa, diciamo, lo dice perché tanto è una cosa da dire, però lo sento nel cuore Ringraziate me, ringraziate lui perché io oggi ero la persona che meno si sentiva di stare qua La meno adatta e quindi sono emozionata per questo Perché penso di non meritarmi questo per altri motivi e invece c'è E quindi ringrazio Dio Grazie Grazie ragazzi, grazie a tutti voi Grazie di aver partecipato Adesso guardiamo ai concorrenti Amici telespettatori, buonasera Oggi ci troviamo a Milano in occasione della terza edizione del DJ Factor Il DJ Factor è un talent show dedicato a nuovi talenti cristiani della musica Ora vedremo alcune fasi salienti Paolo Pelegatti Una personalità come te, con tale cultura e tale capacità di sapere anche, discernere e di capire le qualità anche dei nostri artisti La mia domanda semplice è, secondo te oggi la musica cristiana può crescere, può diventare qualcosa di affermato in Italia? Beh, la musica cristiana ha dei principi assolutamente vincenti in quanto tutto quello che è spirituale deve essere musica E quindi già parte con dei presupposti assolutamente importanti Quindi credo che avrà un futuro sicuramente assolutamente importante Forte applauso Davide Restrepo, responsabile e direttore artistico di Coffee House Torino Torino Beh, che cos'è il Coffee House? Il Coffee House nasce come una serata artistica musicale Che vuole dare la possibilità a tutti gli artisti cristiani di poter portare il Vangelo attraverso la musica Noi però creiamo un ambiente molto sereno, tranquillo, pacifico Dove la gente può portare amici, parenti, conoscenti Senza avere la difficoltà di pensare che cosa si dirà, che cosa si canterà Cerchiamo di avere una serata dove la gente particolarmente non si preoccuperà per le cose che si diranno Ma si sentirà al suo agio con i suoi amici Volevo fare un forte applauso, non per retorico, ma per questi artisti Che sono venuti da tutta Italia, Palermo, Salerno, Toscana Hanno fatto chilometri Hanno investito di tasca propria E quindi è chapeau, che Dio vi benedica veramente Chiara è la vincitrice del J-Factor 2011 Chiara, cosa rappresenta per te questa vittoria? Rappresenta il fatto che posso avere l'opportunità di poter trasmettere Ciò che Dio mi ha dato a chi non conosce la verità O chi non conosce chi è Dio, che è semplicemente un amico Grazie Chiara per il tuo commento Grazie a voi Silvia Aprile ha assistito con noi al J-Factor Silvia, una battuta calco È stato un bellissimo spettacolo Sono veramente contenta di essere stata qui con voi È stato bello anche far parte della giuria degli esperti Tra virgolette, quindi abbiamo avuto un senso di responsabilità maggiore Ed è stata una buona occasione per ascoltarli tutti con molta attenzione Sono veramente tutti stati bravissimi Hanno dato il loro meglio E questo non vieta però che l'anno prossimo Possa tutto il meccanismo migliorare ancora di più E diventare una cosa ancora più competitiva E ancora più esportabile facilmente Ti ringraziamo Silvia A voi, ciao Paolo Iugovac, critico e musicale Qual è il tuo parere su J-Factor? Mi pare che sia stata una buona edizione Si sta migliorando di anno in anno Mi sembra che sia un buon modo di proseguire Sia dal punto di vista artistico sia dal punto di vista tecnico Ci sono stati dei passi in avanti Voci interessanti Alcune spero di poterle ospitare anche su musicacristiana.it Che poi è il portale che curo Ok, ti ringraziamo Paolo per il tuo intervento Grazie A voi Daniele Fumi è l'organizzatore e ideatore della serata J-Factor Come nasce? Allora, l'evento nasce così Quasi come per gioco Eravamo tre anni fa In una saletta, mi provavo con Angelo E io già da un po' dicevo Ma qua dobbiamo fare qualcosa per i giovani Allora abbiamo pensato Ho pensato cosa potrebbe essere ideale per loro Certamente trovare l'opportunità di inserirsi All'interno di un format che piace Un format giovane che non è il solito festival Allora qualcosa per attirarli era dare una novità La novità era utilizzare un format che conosciamo tutti Che però noi volevamo adattarlo in chiave spirituale In chiave cristiana più che spirituale Di conseguenza abbiamo pensato appunto di scendere le due cose Creare proprio un format che Mi facesse inserire all'interno di questo Sentire al loro agio Nascesse una competizione che È una sana competizione dove alla fine Non c'è lo scontro Fino a se stesso Ma c'è semplicemente il realizzare Un obiettivo comune Che è quello di emergere nella musica E nella musica cristiana Noi ti ringraziamo Daniele Grazie Grazie a te Grazie Italia TV Guardi Angelo Maugeri è il direttore artistico del J-Factor Qual è lo scopo del J-Factor? Lo scopo del J-Factor è quello innanzitutto non competitivo Quindi tutti gli artisti che vi partecipano Sanno fino all'inizio che J-Factor nasce non per competizione Ma per confrontarsi, per crescere Nel dono che Dio ci ha dato Quindi affinché questo talent, questo format possa crescere Attraverso i talenti che è la musica cristiana italiana Ce ne sono tanti Quindi andiamo alla ricerca Quindi l'obiettivo è quello Non è un obiettivo di lucro Non è un obiettivo per esaltarsi Ma semplicemente dare gloria a Dio Attraverso i talenti che lui ci ha donato in questa nazione Quindi farli crescere Noi siamo qui per questo Io sono onorato di dirigere artisticamente Tutti questi ragazzi che sono stati ancora anche quest'anno meravigliosi Ok, grazie Angelo A voi, grazie Bene, per ora è tutto Da Milano, Barbara TV Italia Web Informazione in demand Understands what you've been through Noi abbiamo Noi abbiamo Noi abbiamo Noi abbiamo Grazie.